E' al nastro di partenza la realizzazione di una lunga pista ciclabile che parte da Moncalieri per arrivare a Chieri e tocca una ventina di paesi. Ci dice tutto Claudio Pregno, vediamo. Sono 20 comuni che vengono a essere uniti dal progetto di ciclovia che utilizza prevalentemente strade bianche e di campagna. Percorribile dunque in tutta sicurezza da Moncalieri a Chieri, la Blue Way piemontese si snoderà per una settantina di chilometri tra i tanti ambiziosi obiettivi abbattere l'inquinamento. Per questo la ciclovia passerà vicino alle fermate di bus e treni dove ci sono aree di parcheggio comode. Alla progettazione hanno partecipato private cittadini, associazioni, comuni e hanno contribuito in maniera affattiva anche i futuri geometri dell'istituto Vittone di Chieri. Consente ai ragazzi di fare un'esperienza di alternanza scuola-lavoro. I ragazzi rileveranno i percorsi, restituiranno cartograficamente le osservazioni fatte sul territorio, i rilievi del territorio e analizzeranno le proprietà catastali. La ciclovia fa da volano per un'economia blu che utilizza ciò che è presente sul territorio per tutelare l'ambiente, ridurre gli sprechi, creare posti di lavoro e guadagnare. Inoltre stimola gli abitanti ad adoperare la bicicletta per recarsi al lavoro, a scuola o a fare la spesa fra le cascine, migliorando quindi lo stile di vita. E ancora valorizza il prestigioso patrimonio ambientale, artistico, culturale già riconosciuto dall'UNESCO, riserva di biosfera, alimentando un turismo che sostiene musei, ristoratori, albergatori e prodotti tipici.